bella soli grazie a tutti e bentornati in questo nuovo video oggi ragazzi siamo su call of youtube e copster per portarvi il secondo episodio di random class più episodio visto che è piaciuto abbastanza quando avevo aggiunto i 20 like per fargli fare da ecma dei ammai che la faccio non sono arrivati ragazzi io non la farò male se no ti toccava se no c'è di bannavamo no no la facevo però non sono arrivati i like io non la faccio punti open se no godevo quando se arriva a 25 il prossimo video se arriva a 25 per darti se 20 assoluta io amo 100 like lui vai a tutto tutte le sfide quindi io incomincio comunque già cercato l'arma oddio non c'è no saremmo la tengo a vita a vita è uscito gli asio back col minone e caricatori apidi e come secondaria 205 10 quindi ragazzi eccoci qui il mattino io già sto avanzando come un animalaccio pensavo che è una partita già cominciato però no quindi invece no ragazzi io purtroppo non sono scordato di mettere tenevo il puro di fire però non lo ho potuto mettere l'importante allora la fine l'importante è la classe madonna mia io odio quelli che si campeano con il cerchino madonna no vabbè fa schifo sta classe ok no non voglio capire che classe c'era di qua che si ragazzi io non c'ho no mazzo una io pensavo fosse buona questa classe ma su vede hanno questa classe buona nooo questa la voglio vedere ragazzi il cerchino nuovo attenzione freestyle eh freestyle eh 169 2 e 1 eh oh ma vè che la pistola è cazzo più forte degli aso back ma che gioco di madda eh oh my god shop 98 no raga allora voglio vedere questa kill la cesta 1 voglio fare voglio fare 1 10 1 20 non fa niente a me il radio di questo gioco non me ne potete più niente a questo gioco è una merda è fatto male non potete dire mi piace che mi piace però è fatto male attenzione io sto ottimo risultato a me ragazzi se chiamo le apps parca puttana voglio almeno il 70 like non mi fega un cazzo un po' zitto zitto 15 punti oddio ragazzi ho chiamato le yaps non ci posso chiedere no non ci posso chiedere cioè chiamando le yaps con la classe g nei i2 e qua ho i tantissimi like ma grazie la classe è più forte di te mamma mia ragazzi mamma mia sto facendo il devasso oddio sta classe è fortissima ecco il 2 c'è un chiamato luoghi attenzione in caribbia no l'ho preso io mamma mia mamma mia ragazzi mi sto pesando in questa classe sarà la mia classe preferita da oggi in poi e però sempre in 50 parco due addosso mamma mia ragazzi 37 oddio oddio meno male che su sta serie andare in positivo sto tutte classi così a me l'importante attenzione ragazzi 32 8 32 8 che classe se io mi sto negozando veramente questo guarda di te io ero quello quello che sta in chiesa io già avevo buttato la mececi in giù basicamente già l'ha buttata però non ce lo dice quindi ragazzi spero che questo video vi è piaciuto lasciare tantissimi like perchè ragazzi diventa 2 8 ho capito che la classe è forte però porca buttana quindi ragazzi lasciate un bel like un commento e iscrivetevi al canale sia mio sia dei killets e se ci vediamo in prossima video ci vediamo in prossima video ciao per tanto e Mike è tutto bella